continua la nostra serie dedicata all'editoria per bambine e bambini ragazze e ragazzi oggi incontriamo l'esperienza di uovo nero la casa editrice fondata tra gli altri da sante bandirali che oggi qui con noi buongiorno sante buongiorno francesca e buongiorno a tutti allora cominciamo a parlare di uovo nero partendo dall'origine quando nasce uovo nero e con quali propositi uovo nero nasce nel 2010 con l'intento principale di pubblicare dei libri pensati e progettati appositamente per bambini che hanno delle difficoltà di lettura quindi libri che possono essere avvicinati e fruiti e goduti con minori difficoltà e anzi nel miglior modo possibile intorno a questo che si articola soprattutto nei due filoni dei libri in simboli di cui siamo stati i primi editori in italia e dei libri ad alta leggibilità intorno a questo dicevo c'è tutta una letteratura e una serie di albi illustrati pensati per diffondere una cultura della diversità intesa come una risorsa come una ricchezza e non come qualche cosa da vedere con diffidenza da allontanare perché effettivamente essere diversi è quello che ci fa crescere quello che fa diventare il mondo migliore proprio perché ciascuno nella propria specificità può dare il proprio contributo di questo a volte purtroppo ci si dimentica e pensiamo che farlo attraverso una buona narrativa degli albi illustrati di qualità parlare di questo attraverso questo tipo di letteratura sia molto importante perché significa farlo in un modo non didascalico non pedante ma portando comunque questo tipo di messaggio ecco prima di entrare nello specifico e chiederti proprio cosa significa il libro ad alta leggibilità ti vorrei chiedere vorrei fermarmi un attimo sul nome della vostra casa editrice perché uovo nero uovo nero deriva da da una fiaba di luigi capuana che cosa ci racconta quella fiaba è una fiaba molto divertente molto articolata scritta con meraviglioso linguaggio di luigi capuana che racconta una storia molto fantasiosa di questa vecchia contadina che vive insieme alla sua gallina e vivono una vita molto normale perché ogni giorno la gallina depone delle uova la contadina le porta al mercato le vende e con il ricavato continuano la loro esistenza un giorno la gallina però depone due uova uno bianco e un uovo è nero la gallina la contadina va al mercato le porta al mercato vende immediatamente l'uovo bianco ma l'uovo nero non lo vuole nessuno e da qua incomincia tutta una serie di avventure in cui la contadina si riferisce sempre alla gallina chiedendo che cosa devo fare quindi che cosa ne devo fare di questo uovo portalo al re e poi il re domanda ringrazia ma dice io che ne devo fare la contadina chiede di nuovo alla gallina e così via alla fine ne nascerà un galletto un galletto molto bizzarro e impertinente destinato a rompere le scatole a tutta la corte diventerà poi principe ma un principe che manterrà la sua bizzarria che continuerà a fare chicchi ricchi perché ci è piaciuta così tanto perché intanto contiene molti degli elementi che ci sono dei temi che ci sono cari come per esempio la diversità che viene rifiutata perché l'uovo nero non lo vuole nessuno nel mercato anche poi dalla quale poi nascono invece delle grandi sorprese ma anche il fatto che c'è un certo tipo di diversità noi per esempio abbiamo molto al centro delle nostre pubblicazioni nel tema dell'autismo non è una diversità che poi si cancella per quanto si possa imparare a conviverci si possano apprendere delle strategie per vivere con il proprio autismo nel modo più semplice possibile in realtà autistici si nasce e autistici si rimane per tutta la vita quindi anche questo principe che pur diventando principe da galletto continua a fare chicchi ricchi per noi era un po questa questa immagine e un'altra cosa che ci piaceva molto è la figura della gallina la gallina che è la madre del galletto che diventerà principe e che quindi anche la più grande esperta perché è vero che per esempio nel caso dell'autismo è importante rivolgersi a dei professionisti capaci sensibili che conoscono bene il tema ma alla fine i migliori esperti dei propri figli restano i genitori quindi lavorare insieme ai genitori e non metterli da parte pensando di essere gli unici grandi esperti è quello che secondo noi devono fare dei seri professionisti è quello che cerchiamo di fare anche noi quindi lavorare tutti quanti insieme e riconoscere questo ruolo importante ai genitori ecco un po tutto questo e anche altre cose sono contenuti in questa fiaba che ci è piaciuta così tanto al punto da prendere l'uovo nero come nome della casa editrice e lo scorso anno in occasione del decennale abbiamo anche pensato di pubblicarla questa fiaba in una mia riscrittura con l'illustrazione di alicia baradana è nato questo albo illustrato l'uovo nero una riscrittura perché al posto del test di luigi capuana ho pensato di riscriverlo abbreghiando molto la vicenda per renderla più adatta ad un albo illustrato per bambini ecco parlavamo quindi prima di inclusione dei propositi di uovo nero adesso sappiamo anche da dove deriva questo bel nome e ti chiedo di spiegarci che cosa si intende sante per libri ad alta leggibilità altra leggibilità diciamo che un po un termine generico per parlare di tutti quei libri che sono più accessibili del libro standard se parliamo di albi illustrati più che di alta leggibilità in senso stretto noi ci occupiamo di libri in simboli dove insieme alle illustrazioni e insieme al testo usiamo i simboli che vengono utilizzati nella comunicazione aumentativa alternativa per rinforzare la lettura del testo quindi per rendere il testo più facilmente comprensibile attraverso questi logogrammi che rappresentano ogni singola parola ogni gruppo di parole dedicati soprattutto chi ha uno stile di pensiero più visivo ma anche a chi essendo magari straniero sta ancora imparando a leggere l'italiano e quindi chi va a cercare comunque un rinforzo di comprensione a questo simbolo che viene messo insieme nel testo è il grande vuoto che uovo nero voleva andare a colmare perché non esistevano nel 2010 quando siamo nati libri in simboli sul mercato italiano il fatto di andare a colmare questo voto per noi era talmente importante da pensare di creare la casa editrice poi negli anni anche altri editori hanno iniziato a farli restano ancora abbastanza pochi gli editori che pubblicano libri in simboli per cui il nostro desiderio intanto siamo felici di aver aperto una strada e poi il nostro desiderio è che col passare del tempo sempre più editori possano pensare di abbracciare questo questo tipo di pubblicazione perché ce n'è effettivamente molto bisogno aggiungo che dopo qualche anno dalla nostra nascita abbiamo coinvolto altri 11 editori in un progetto che si chiama i libri di camilla in cui molto semplicemente noi ripubblichiamo dei loro albi illustrati anche molto noti molto di successo con le stesse caratteristiche dell'originale ma con in più i simboli quindi una versione diciamo accessibile di albi che sono già anche anche molto noti già presenti sul mercato sul mercato editoriale per quanto riguarda invece l'alta leggibilità in senso stretto parliamo in questo caso di narrativa di romanzi quindi di libri destinati a un pubblico più adulto a lettori più adulti dove tutta una serie di caratteristiche grafiche che partono dal font utilizzato all'impaginazione la spaziatura tra le righe la mancanza di sillabazione nelle parole un sacco di altre caratteristiche aiutano quei lettori un po' riluttanti per esempio perché dislessici o con altre difficoltà di apprendimento o di lettura o anche di visione in certi casi ad avvicinarsi più facilmente alla pagina perché la pagina offre un respiro diverso ed è molto più facilmente percepibile di una pagina tradizionale abbiamo parlato del ruolo poco fai parlato del ruolo fondamentale dei genitori ecco come vi relazionate nel senso so che uovo nero lavora moltissimo sul campo nel senso che incontrate i ragazzi ma i bambini i loro genitori gli educatori è un lavoro che avete portato avanti proprio dall'inizio quindi è una cosa su cui puntate molto una cosa che non ho detto prima quando parlato della nascita della casa editrice è che l'idea di fare questi libri e quindi di aprire la casa editrice è di Enza Crivelli una come me dei soci fondatori che è un'esperta di autismo e che in realtà lavora più che in redazione lavora come sul campo perché dirige tre centri per l'autismo ed è docente di pedagogia speciale all'università cattolica del sacro cuore di milano e di brescia quindi la sua competenza nel campo dell'autismo è molto forte e lei si rapporta costantemente con i genitori con i ragazzi e con gli educatori con gli insegnanti con tutti i soggetti che in qualche modo hanno a che fare con con l'autismo hanno contatti quotidiani con l'autismo un modo in cui ci rapportiamo a a loro direttamente è per esempio collaudando molti nostri progetti sul campo prima di andare in stampa molti libri i libri in simboli i libri ad alta leggibilità i nostri giochi perché abbiamo anche una collana di giochi inclusivi giochi non competitivi pensate qui per permettere di giocare a bambini che di solito hanno grosse difficoltà ad avvicinarsi al gioco ecco tutti questi materiali vengono prima testati sul campo proprio con i potenziali utilizzati utilizzatori per vedere pregi difetti per correggere modificare aggiustare quelle cose che meglio aggiustare prima di andare in stampa che che non accorgersi poi che lo siano e quindi il dialogo con le associazioni il dialogo con con i genitori è sempre molto molto stretto molto diretto molti vengono vanno in libreria a cercare i nostri libri proprio perché per esempio hanno frequentato un corso di formazione fatto da enza sul tema dell'autismo quindi vengono a conoscenza di questi libri e poi li vanno li vanno a cercare ad acquistare o ricercano nelle biblioteche dove altrettanto sono sono spesso presenti ecco in questo senso sante quanto è influito la pandemia questi due anni di sospensione perché chiaramente avendo sospeso proprio l'incontro immagino che abbia anche stravolto un po questo tipo di lavoro che fate sul campo quanto è influito e quanto state cercando di trasformare anche far evolvere la il vostro lavoro con le famiglie con con gli educatori e con soprattutto con i bambini da un lato ha influito come come per altri per molti altri nostri colleghi con nel senso di rinvio di alcune pubblicazioni che erano previste per l'anno scorso ma proprio per queste ragioni per ragioni legate alla lavorazione non poteva più essere fatta come come avevamo previsto sono sono stati rinviati uno per esempio che un libro di sfide quotidiane 30 si chiama 30 giorni per capire l'autismo sono 30 giorni di sfide per immedesimarsi nei panni di chi è autistico e capire quindi quali sono le difficoltà che si incontra in certi ambiti questo per esempio abbiamo rinviato uscirà il mese prossimo però la pandemia in e il lockdown in tutto il male che hanno creato hanno dato anche lo spunto per per nuove cose come molti abbiamo dovuto un po' reinventarci e lo scorso anno proprio pensando a quei bambini che prima frequentavano due tre volte alla settimana un centro di terapia e poi improvvisamente si sono trovati per mesi bloccati in casa abbiamo ideato un progetto di solidarietà digitale per portare nelle loro case gratuitamente ogni giorno quattro attività costruite e progettate direttamente per loro quindi da marzo a giugno dello scorso anno questo progetto che si chiamava intanto faccio qualcosa che era una risposta a io resto a casa io resto a casa ma intanto faccio qualcosa ha portato tutta questa serie di materiali che erano dei giochi delle video letture delle guide per esercizi di yoga e di ginnastica perché anche mantenersi un po' in fome era importante delle attività con la comunicazione aumentativa alternativa delle ricette per poter anche cucinare con i genitori visto che si era in casa ecco tutto questo l'abbiamo messo gratuitamente online in quei mesi e quando è finita l'emergenza molti ci hanno chiesto di poter avere queste raccolte per cui è nata una serie fuori collana che si chiama i quaderni di intanto faccio qualcosa dove sono cinque quaderni tematici uno dedicato alle ricette uno ai giochi uno agli esperimenti scientifici eccetera che raccolgono tutti questi questi materiali creati in questi mesi che ora sono in libreria uscendo un attimo dal da questo discorso parlando d'altro come editore ma anche come lettore appassionato dal tuo punto di vista che cosa non quali sono le caratteristiche fondamentali affinché un libro per ragazzi per bambini o per ragazzi sia un buon libro nel senso a cosa deve rispondere per poter essere considerato tale mi viene da dire deve essere un libro onesto cioè deve essere un libro che innanzitutto racconta una bella storia con dei personaggi credibili e scritto con una con una lingua letteraria che non necessariamente della letteratura alta può essere anche quotidiana ma deve essere una lingua su cui c'è un lavoro uno degli errori che secondo me a volte viene fatto è quello di abbassare la lingua semplificare troppo la lingua pensando che siccome si parla dei bambini o a degli adolescenti non dobbiamo usare certi termini non dobbiamo usare le costruzioni troppo complesse invece anche questo secondo me è un grosso errore bambinizzare il bambino non andrebbe mai fatto perché i bambini anzi hanno molta voglia di crescere e quando vengono responsabilizzati sia nella forma sia nei contenuti credo che si avvicinano molto più volentieri a una lettura a un libro quindi il libro tematico dove spesso si vuole insegnare qualche cosa a dei bambini cucendo una storia intorno a un tema molto spesso è destinato a non funzionare proprio perché nasce da quel tipo di presupposti mentre quello che piace a me di solito è che ci sia una gran bella storia un libro che effettivamente racconta qualche cosa e quindi letterariamente è un buon prodotto dove in più ci sono quei personaggi che interessano noi quindi il fatto che in un libro ci sia un personaggio autistico non rende automaticamente un libro un buon libro ma se è una bella storia e contiene un personaggio autistico diventa automaticamente qualcosa che interessa molto a uovo nero spesso riceviamo tra le tantissime proposte di pubblicazione riceviamo delle email che iniziano con ho scritto un libro sull'autismo ho scritto un libro sulla dislessia e diciamo che nel 100 per cento dei casi finora la proposta poi non è soddisfacente ma perché c'è già quell'intento didattico che a noi non interessa perché è soltanto conoscendo dei veri personaggi ma questo non si fa perché si vuole insegnare questo lo si fa perché si vuole perché si ama quel personaggio perché lo scrittore o la scrittrice ama questo personaggio e l'ha inserito in una bella storia e questo destinato a funzionare anche toccare quei temi che di solito vengono un po lasciati da parte temi e scomodi come la morte la guerra la criminalità io credo che siano che sia qualcosa di molto importante sta per uscire uscirà a fine ottobre proprio in occasione di halloween il secondo romanzo di pam smai di cui abbiamo già pubblicato thornhill questo si intitolerà il nascondiglio e per esempio parla proprio della morte parla della memoria di chi è morto dell'importanza di ricordare e di avere un contatto e parla anche di violente di violenze domestiche e dell'importanza di trovare il coraggio di denunciarle in tutto questo messo in un libro che contiene delle illustrazioni ma è comunque un romanzo e che alcuni colleghi sarebbero un po spaventati magari di toccare temi di questo tipo io ritengo che sia effettivamente molto importante farlo prima di salutarti la domanda di rito nel senso che la faccio a tutti quelli che incontro qui sul canale del bo live e ti chiedo qual è il tuo libro dell'infanzia quello che ha segnato la tua crescita io sono stato un lettore molto precoce perché ho iniziato a leggere prima dei cinque anni autonomamente e forse questo ha un po segnato anche poi le mie scelte letterarie il libro della mia infanzia in realtà non è un libro per l'infanzia ma è quello che mi ha aperto il mondo su una diciamo mi ha aperto il mondo della letteratura ed è qualcuno volò sul nido del cuculo di Ken Casey che io lessi all'età di dieci anni credo credendolo un libro per ragazzi vedendolo in libreria credendolo un libro per ragazzi chiedendo mia madre di comprarmelo mi proiettò in questo mondo di disagio mentale in questo ospedale psichiatrico in cui è ambientato e forse poi ha segnato anche le mie scelte editoriali da adulto nel mondo del lavoro e quindi ecco pur non essendo un libro per ragazzi posso dire che lo consiglierei a dei ragazzi per esempio della scuola media perché io l'ho apprezzato proprio in quegli anni e per me è stata una lettura veramente molto importante Mac Murphy resta un personaggio che io avrò nel cuore per tutta per tutta la vita